Ben ritrovati con Liguria Chiama Roma Risponde, ben ritrovata l'onorevole Ilaria Cavo, deputata di noi moderati, coordinatrice della lista Totti, vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Grazie Cavo per essere con noi. Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti. Buonasera anche al senatore Lorenzo Basso, senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Ambiente, Trasporti e Lavori Pubblici. Grazie Basso per essere con noi. Grazie a voi, buonasera. E ringrazio in collegamento il senatore Luca Pirondini, Movimento 5 Stelle, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella Commissione Senato, Cultura, Patrimonio Culturale, Istruzione Pubblica. Cavo, partiamo da una tavola autonoma che si è tenuta a formarsi per crescere, tra l'altro è molto vicino anche alla sua esperienza passata di assessore, è stata organizzata dall'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà presieduto da Maurizio Lupi, era presente anche il ministro al lavoro Cardenore. L'obiettivo è quello della formazione anche per gli adulti, quindi no? No, no, l'obiettivo è quello della formazione continua, cioè di... Anche per gli adulti, giusto? Esatto, dei dipendenti e con un concetto che speriamo si possa far passare. Io ovviamente partecipo a questo intergruppo della sussidiarietà che è un intergruppo trasversale, rappresenta anche il collega Basso insieme a tanti altri colleghi degli altri gruppi parlamentari. Ci tengo a parlarne perché è un tema che riguarda tutte le aziende, quindi riguarda le aziende che hanno necessità di continuare ad aggiornare e a formare i propri dipendenti, soprattutto in questo momento, di grande trasformazione, di grande innovazione, di grande necessità per ogni tipo di azienda, soprattutto direi che il tema delle medio piccole, di stare dietro a che cosa? Alla transizione ecologica, la transizione legata a tutto il tema ambientale, a tutto il tema energetico e a tutto il tema tecnologico. Chiaramente per fare tutto questo le aziende hanno bisogno di continuare a fare formazione. Peraltro oggi, e è un tema che ho detto anche di fronte al Ministro Calderone, dalla mia esperienza di assessore alla formazione, era evidente che quando si distaccavano fondi del Fondo Sociale Europeo e si davano e si destinavano alla formazione continua, che non andava sostanzialmente a bando, ma andava a erogata per progetti presentati, quei fondi andavano a ruba, non faceva tempo a metterli a disposizione che venivano sostanzialmente attinti da tutti i progetti presentati. Oggi apro il giornale e vedo che il collega che mi ha soseduto, l'amico e collega Marco Scaiola, ha messo a disposizione qui in Regione Liguria 5 milioni di euro e sono andati in 440 progetti che hanno formato oltre 2000 persone, ovviamente che sono i dipendenti delle aziende Liguri. Questo per dire che cosa? Che c'è bisogno di formazione continua dei dipendenti e bisogna sostenere sempre di più le aziende che certo possono attingere ai fondi europei e il Fondo Sociale Europeo è uno strumento importante, le regioni come vedete lo erogano in Liguria ma tutta Italia. Ma bisogna sostenere le aziende che certo accedono ai fondi ma fanno anche formazione finanziata in proprio, investono e il concetto che vogliamo far passare con l'intergruppo della sussidiarietà è che tutti gli investimenti che le aziende fanno per sostenere la formazione dei propri dipendenti continua siano investimenti che vengono concepiti ai termini di bilancio allo stesso modo, alla stessa stregua degli investimenti in macchinari e questo evidentemente sarebbe di grande aiuto per le aziende. Sostanzialmente si chiede di defiscalizzare tutto quello che è il tempo che il lavoratore poi dedica alla formazione continua che non diventi diciamo un costo aggiuntivo per l'imprenditore. È tutto un termine tecnico, mi rendo conto molto tecnico, ma che per l'imprenditore potrebbe essere risparmio importante che diventa incentivo a investire ancora di più in formazione. Se si riesce a far passare questo concetto, che la formazione, investire e che la formazione è importante e quindi il capitale umano è importante come il capitale tecnico della macchina, io credo che si faccia un grande passo avanti e devo dire che il Ministro è stato molto disponibile, non significa che è fatta, significa che si vuole portare avanti questo progetto e io credo che sia importante perché esistono i crediti d'imposta per le imprese su Industria 4.0, su Industria 5.0, ma il credito d'imposta è già un meccanismo importante, ma non così esaustivo e non così soddisfacente per le aziende come questa defiscalizzazione che stiamo proponendo. Senatore Basso, parliamo di tutt'altro in questo caso perché è stata resa pubblica anche su quotidiani nazionali le sue commissioni presentate, la via VAS per le ripercussioni che si ha sull'ambiente da parte delle grandi opere, delle infrastrutture, poi anche quella sull'intelligenza artificiale. Via VAS per chi non è tecnico, per chi non è del settore, che cos'è e soprattutto che importanza ha in una regione strategica come quella della Liguria? Sì, la commissione via VAS che è poi suddivisa nelle sottocommissioni di valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica sono quelle che devono valutare l'impatto delle grandi opere, dei grandi progetti e il tema vero è che siamo di fronte anche grazie al Fondo del PNR, NRR, a moltissime opere accessorie che si legano a quelle appunto del progetto nazionale e che vanno quindi a investire in questi anni pesanti finanziamenti con ripercussioni. La commissione è fondamentale perché deve andare a valutare appunto tutto l'impatto che queste opere possono avere e quindi a non solo dare il via libera ma molto spesso a correggere i progetti. Perché è preoccupante il fatto che questa commissione possa essere cambiata totalmente senza una certa gradualità? Per questo potrebbe voler dire dover rimettersi a studiare alcuni progetti, dover riprendere gli incartamenti e quindi rallentare molte opere o nel peggio dei casi addirittura riniziare l'iter. In questo momento le risorse pubbliche sono scarse e prima ricordava la collega l'importanza per esempio della formazione, io penso a tutti gli aspetti sociali, insomma ci sono tante priorità, è importante fare le opere, ma è importante usare queste che sono risorse pubbliche, quindi dei cittadini nel migliore dei modi. Non possiamo permettere che vengano rallentati da questioni che hanno un carattere più burocratico, per quello mi sono mosso per tempo per chiedere che venisse presa in considerazione un ricambio graduale, come si fa in qualsiasi azienda, in qualsiasi settore in cui quando ci sono competenze non vengono sostituite in blocco 40 persone, ma vengono gradualmente sostituite in maniera tale da esserci quel passaggio di conoscenza e di competenze che permette la continuità. Questo è fondamentale, altrimenti il rischio è o di non analizzare questi progetti con la dovuta attenzione o quella di rinviarli, andando a causare appunto spese, spreco di denaro pubblico che in questo momento, come del resto sempre, ma in questo momento in particolar modo, sarebbe molto grave. Senatore Pirondini, siamo nei giorni che arrivano dopo il primo maggio la festa dei lavoratori e allora è salita la ribata, il suo disegno di legge sul reato di omicidio sul lavoro, proprio nelle giornate in cui continuano a esserci infortuni gravissimi sul lavoro, addirittura morti in questi giorni che hanno susseguito il primo maggio. Sì, martedì abbiamo presentato in sala Nesseria al Senato il disegno di legge appunto che porta la mia prima firma, ma che è firmato a tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, e l'ho presentato insieme alla Vice Presidente del Senato, Mariolina Castellone, al mio collega Stefano Patuanelli e Dada L'Operiato. Un disegno di legge appunto che chiede l'inserimento del reato di omicidio sul lavoro, perché i numeri che abbiamo sulle morti sul lavoro e sugli infortuni sono numeri davvero drammatici. Più di mille nel 2022, più di mille nel 2023, nel 2024, addirittura c'è un incremento ancora del 20% soltanto nei primi mesi. Allora è evidente che qualche cosa va fatto. Delle leggi già ci sono, questo è vero, ma è altrettanto vero che se guardiamo i numeri in questo momento ci portano a capire che non sono efficaci. Cosa dice il nostro disegno di legge? Lavora soprattutto sulla prevenzione, quindi va in qualche modo a chiarire meglio quale siano le cose da rispettare in fase preventiva, soprattutto legate al DL 81 del 2008, lo va a specificare con maggiore chiarezza, in modo che i datori di lavoro possono avere sicurezza su quali sono le cose da rispettare per la sicurezza dei lavoratori. E' fondamentalmente una misura preventiva, perché l'obiettivo di questo disegno di legge è quello che non accadano più infortuni e che non accadano più morti sul lavoro. Nei momenti in cui non vengono rispettate queste forti misure preventive, volte appunto la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, abbiamo previsto in questo disegno di legge che vengono anche aumentate le pene, perché il principio è che non è accettabile che per fare maggiore profitto si vada a risparmiare sulla sicurezza e quindi si vada in qualche modo a scommettere sulla vita delle persone che vanno a lavorare. Oggi in Italia quasi tre persone al giorno muoiono sul posto di lavoro, tre persone al giorno, un dato inquietante, e insieme a noi l'altro giorno c'era la signora Emma Marrazzo, che è la mamma di Luana Dorazzi, quella ragazza che nel 2021 è morta in fabbrica in Toscana perché lavorava sul macchinario al quale erano state tolte le protezioni perché il macchinario potesse produrre più velocemente. È un disegno di legge il nostro volto a ripristinare la tutela di chi va a lavorare, la tutela anche dei datori di lavoro che devono poter lavorare nella certezza di aver messo in sicurezza le persone che lavorano e dal nostro punto di vista è un punto di civiltà che speriamo venga anche condiviso da tutte le forze politiche perché il tema della sicurezza sul lavoro secondo noi deve essere un tema trasversale. Cambiamo del tutto argomento. Onorevole Cavaro, ho presentato nei giorni scorsi un'interrogazione in Commissione, attività produttive della Camera, sull'accessibilità dei fondi della transizione 5.0 per l'azienda ETS. C'è stata la risposta del sottosegretario al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Barbaro. Sì, allora, l'interrogazione nasce ovviamente da aziende del nostro territorio, soprattutto legate al nostro porto, che si occupano di registrica, sono strutture di logistica e di deposito, che hanno attività connesse a combustibili fossili. Qual è il punto? Che queste aziende, pur volendo riconvertirsi e quindi avviare nuove attività e quindi sposare il principio della riconversione in senso ecologico e ambientalista, e quindi volendo attingere ai fondi di Industria 5.0, che sono proprio finalizzati al tema ambientale, della riconversione in senso ambientale, ebbene non possono, proprio perché gestiscono e hanno a che fare col tema dei combustibili fossili per impostazione europea e direttiva europea, accedere a questi bandi. E allora io ho chiesto, sembra di fatto sostanzialmente un controsenso, perché se non possono accedere ai fondi non riusciranno mai a riconvertirsi e quindi viene meno anche il principio del sostegno alle aziende per la riconversione. La risposta è stata inevitabilmente, ma me la aspettavo, una risposta tecnica, cioè si rimanda ai paletti dell'Unione Europea, ma con un impegno al dialogo, alla trattativa con l'Unione Europea per fare in modo che alcune delle aziende, siccome l'obiezione non è che non sia fondata, è fondata, possano invece, nonostante la matrice e il settore di provenienza, riuscire ad accedere a questi fondi. Vediamo come andrà avanti questa trattativa, però credo che aver posto il tema sia stato importante e lo seguiremo. E noi lo seguiremo anche con Liguria Chiama Roma risponde. Basso, lei invece ha presentato un'interrogazione sull'ultimo miglio ferroviario a Genova San Pierdarena. Ci sono delle iniziative in ballo anche nei prossimi giorni, è un tema che riguarda molto da vicino gli abitanti che immagino chiedano sempre risposte anche su questo. Sì, c'è forte preoccupazione in Val Polcevera, a San Pierdarena, perché con il ripristino della linea ferroviaria, che poi si collegherà al terzo valico, ci saranno moltissimi convogli di giorno passeggeri, di sera e di notte, quelle merci che attraverseranno il quartiere. Rispetto a questo bisogna che ci sia una maggiore comunicazione e che ci sia una maggiore attenzione, perché le preoccupazioni sono sacrosante, ovviamente rispetto a quelle che possono essere le interferenze per i treni che passeranno vicino, per le vibrazioni che potrebbero esserci, per il rumore che sicuramente potrebbe esserci. Per questo il Partito Democratico a San Pierdarena ha convocato per lunedì un'assemblea pubblica per ascoltare quelle che sono le preoccupazioni. Si sono visti sul giornale nomi di espropri, senza preventive comunicazioni, non si è creato quel punto informazioni che invece c'è in Val Polcevra e deve esserci anche a San Pierdarena. Insomma, ci vuole una maggiore attenzione, perché il progetto è importante, il passaggio delle merci e delle persone su ferro rispetto alla gomma è fondamentale, però bisogna fare questo andando a salvaguardare quella che è anche, non dico la sicurezza, che siamo certi ci sarà, ma anche quelle che sono le condizioni di vita delle persone. Quindi bisogna garantire che non ci siano rumori, vibrazioni, per i treni che passeranno, che non passino merci pericolose. Bisogna che ci sia un maggior ascolto delle preoccupazioni dei cittadini e dei punti di informazioni che possono raccogliere le informazioni, dare informazioni e garantire quelle che sono richieste legittime dei cittadini del quartiere di San Pierdarena e in generale di tutta la Val Polcevra. Con il senatore Pirondini avevamo già parlato di asili musicali, già nelle scorse settimane, proprio in questo format di primo canale, è stato incardinato in commissione, è pronto quindi a partire l'iter Pirondini, mi sembra di capire, no? Sì, la novità è questa, che il segno di legge è stato incardinato in commissione e quindi sono stati fissati i termini per le audizioni. Tra l'altro io ho chiesto che venga audito anche un rappresentante del Comune di Genova, perché è proprio a Genova che è cominciato questo pilota, grazie a una mozione del Movimento 5 Stelle, che proprio è stata condivisa dal Consiglio Comunale e portata avanti al Comune. A Genova sono nati cinque nuovi asili musicali, che io ricordo sempre sono un progetto sociale, un progetto sociale perché in altri paesi del mondo in cui è stato fatto investimento nella formazione della cultura, della bellezza, fin dagli asili, io dico anche asili nido, è stato dimostrato come soprattutto venga contrastato il degrado di alcune zone più complicate. Però è anche una fonte di apprendimento per i bimbi e ci sono numerosi studi scientifici che dimostrano che l'apprendimento cognitivo studiando la musica fin da piccoli migliora in modo sensibile. E quindi questo è un progetto sociale molto importante che a Genova ha avuto un grande successo. In Consiglio Comunale poche settimane fa è stata approvata una mozione del Movimento 5 Stelle per fare nuovi concorsi di insegnanti. Grazie, mi dispiace interromperla, siamo in chiusura, abbiamo sforato tantissimo il limite di tempo, ne riparleremo, magari intanto abbiamo raccontato qualcosa che era già partito da voi e quindi viene portato avanti. Grazie, grazie all'On. Elaria Cavo, grazie al Senatore Lorenzo Basso, grazie al Senatore Luca Pirondini. Ci rivediamo settimana prossima. Ligura Chiama, Roma risponde.